e abbiamo il pacco della sardegna abbiamo adesso non mi c'è un'altra parte della live il pacco della sardegna vero e precisamente viene da cagliari via campagna no vabbè pensavo sassari mi sono sbagliato qui c'è scritto no 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 aspetta vediamo ecco qua il mio dove è il suo non c'è l'indirizzo del mio scherzo cagliari via campagna 33 via campagna 33 un saluto a sospedizioni che ci spedisce tanto magari scusate che è proprio qui l'indirizzo ecco magari non facciamo vabbè il mio ormai no no è quello di alessio ah ok perché io ho mostrato senza rendermi conto il curriculum vite così tranquillamente in live perfetto perfetto andiamo all'unboxing c'è non c'è alessio alessio dove cazzo sei alessio scusa la parola faccia può dire cazzo alessio dove sei alessio andiamo all'unboxing del pacco da giù vedi 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 come viene subito subito viene santa san santa santa si solo due busti una per te non da bel me sicuramente la busta della corona abbiamo due buste con ade dentro mostriamo allora vediamo ha scritto il nome diceva no tom mago questo è tom questo è tuo la mia è già aperta perché qualcuno all'immigrazione deve aver rubato cose no era chiuso no era totalmente chiuso allora pane carasau come se non ci fossero male pergamena di pane grande questo ci piace vediamo a sì certo anche anche da me anche da me eccolo qui pane carasau domani mattina per colazione il malureddo grande il malureddo riconosci questi qui è san pasta pasta malureddo abbiamo il malureddo sardo sfogliatine croccanti panificio nuraghe sapattate ma che lingua è questa che lingua è le crocchias patatine classiche che sono sarde sicuramente faccio vedere eccole qua mostaccioli mostaccioli buoni io non conosco nulla a parte il pane carasau ragazzi no si è aperta la fregola si è aperta la fregola allora bisogna mangiarla subito no perché vedo che è uscito da qui dove è uscita ah si è rotta qui sotto la fregola grande fregola sarda buonissima capo questo c'è anche io il pane a curva sul sacco a me buttiamo a me non me l'hai mandato il pane guttiamo a me nooo scrocchias tommaso no 2 aspetta aspetta noi abbiamo il formaggio a te c'è il formaggio no vedi ma voi siete in tre io sono me e me bevastati no 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 tienalo te tienalo te e bevvi scusate io ho la crocchia e questa è la fregola piccola bellissima cos'è la fregola la fregola è una pasta buonissima tra l'altro da vedi questa è buona buona esagerata ma io non conosco nulla ma ce l'hai che la fregola no non ho la fregola a me ha messo sa che io mangio mangio schifezzo mi ha messo le patatine giustamente perché mi conosce ora qua due gusti diversi questo classiche sarde e russiche murate c'è proprio il grasso proprio tutta la merda dove sono i vermi sai che non c'è più mi sa quello lì ah ecco ma alessio ci sei no non c'è c'era all'inizio è andato via adesso eccolo qua guarda questo stronzo cazzo si è aperta è quello lì no vabbè ma non si è aperta tanto eh grazie mille ascolta tommaso scherzo e parte no 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 dai 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 serio no 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 dai no guarda vai vai a te non mangi il formaggio mangio questo qui ma ne ho uno ne ho grazie mille ascolta ho da mangiare per una settimana qui eh stasera avevamo ordinato la 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 pizza una l e una era gratis la sua pizza che avevamo ordinato con tutte le senza pancetta senza formaggio è arrivata con tutto ovviamente è arrivata con tutto vuoi chiedere modifiche in questo paese è arrivata con tutto bassi e fissi quello che per me non è più commerciabile bassi e fissi bassi e per me fissi e per te si è il conad che dice il signor bassi e fissi alessio questo per mio ci fa ci fa la cacassa per le bambole come ci sta alessio grazie grazie alessio grazie alessio no e scambio pane e formaggio con pane guttiano non è possibile farlo il formaggio anche se lo scambiasse non lo mangia no e c'è il latte quindi non lo mangi no no ma non fa scambio sicuro che non ne ho due no ma no ma non ti preoccupare ma che non è che mi togli il pane di bocca no ma non ti preoccupare dai non è un problema figurati anzi mangialo te che ti piace sì ma ne ho due cioè non è che ma non ti preoccupare figuraci meglio meglio com'è la pizza com'è la pizza in giappone era quella di domino pizza quindi era un po' particolare com'era ma devo dire che mi ha messo una sete tremenda c'ho una sete adesso vado a bere subito ma però non era male a me domino non è che dispiace sinceramente ma allora diciamo che secondo me la migliore è pizzala per me sì però pizzala diceva lui che ci mettono il brodo praticamente c'è il brodo nella farina c'è il brodo insomma nell'impasto c'è il brodo di 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 pollo non manca qualcosa nel pacco dov'è la birra vabbè la birra l'Icnusa no dov'è l'Icnusa vabbè come facciamo a mandarla Alessio dov'è la birra si rompeva tutto ti mando i sapori della mia terra dov'è la birra ma anche in giappone da fare la spesa con la borsa della cona da adesso certo adesso andremo tutti con la borsa della cona da fare la spesa esattamente assolutamente Alessio grazie mille cazzuina scambia prodotti con i bichi no ora nel senso il pane guttiao quella nella scatola è piena tra l'altro guarda si può fare facciamo così io prendo no 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 tieni il pane guttiao è buono ti posso dare una bottiglia di Maker's Mark guarda è dietro e il mirto chiedono il mirto è il mirto Alessio io Tommaso io vado perché ci si si allora scusate finalmente riesco a vedere una tua live dopo due mesi ma come fanno i alert che sono sono tolti erano erano allora ringraziamo tutte le persone che in queste due ore sono sono riabbonate alla final logo 77 c'era arrivato grazie Glock 77 per 18 mesi Stefano per i sette mesi What is Matteo che sarei iscritto la prima volta Alberto Arena per tre mesi Superoxi Smutasi che ha fatto un alert te lo mando ciao Tom e Katsuya un grande saluto a Peppe ti seguo da tanto complimenti per il manga Gisomo che ha scritto un cosa faccio sentire quello che ha scritto grazie a Dark Soul che ha regalato l'abbonamento a Giorgio SDT Vincent per 18 mesi consecutivi Fabio grazie 12 mesi 12 mesi di rottura di scatole e ridere a crepapelle Luigi SDSDN DNS scusa scusa Luigi Ciao ragazzi finalmente riesco a vedere una tua live dopo due mesi grazie mille ancora allora domani io vado devo andare a Dodaiba per le 5 e mezzo perché ho un appuntamento con la sorella di un mio carissimo amico che sta lavora negli eventi sportivi a quasi aprile olimpiadi prima per le olimpiadi adesso per le parole olimpiadi quindi non so se farò la live domani oppure martedì credo che comunque sia dopo averlo fatta tipo dalle 6 e tornerò a casa alle 9 di sera farò questa live grazie per i 100 bits a francè 7561 e lui adesso mangia il pane pergamena lo mangia no è il tuo non ti preoccupare ti preoccupare ho già mangiato anche troppi carboidrati stasera questo capitalismo proprio da te non me lo aspettavo tu che fai i discorsi da comunista si come dice il dottor Manhattan non il doc Manhattan ma il dottor Manhattan è buono? è buono bro è buono non c'è niente da fare quindi dicevo domani forse faccio questa live da verso dopo insomma ora vedo però comunque se non la dovessi fare a domani domani IRL domani faccio una live normale e mercoledì invece riprendo mercoledì che giorno è scusate un attimo è il 25 mercoledì sì mercoledì è il 25 quindi niente non la potrei fare quindi o lunedì o martedì ci vediamo per questa live così va bene? grazie mille a tutti quanti grazie a Katsuya che gli è arrivata la pizza con e adesso deve andare perché alle 22 alle 23 e tra 10 minuti c'è l'ultimo treno quindi vabbè è qui davanti comunque vabbè grazie a tutti per aver visto la live grazie ancora a Peppe che adesso risalutano ancora grazie The Green Bastard grazie mille The Green Bastard grazie Alessio grazie Alessio ancora grazie Alessio che si mangia la roba sarda non vedo l'ora di mangiare la fregola con qualche buona fregola è buona veramente grazie a tutti ragazzi ci vediamo domani o martedì anche l'olio d'oliva è proprio buono è buono sicuro è buono ciao a tutti buona serata